Benedetto XVI ci invita tutti a Loreto. Sarà un'occasione per incontrarsi, conoscersi e condividere gli aspetti fondamentali della vita di noi giovani. Ci ritroveremo l'1 e il 2 settembre a Loreto, sul grande prato di Montorso, per ascoltare la voce del Papa e per pregare con lui. Io attendo numerosi al grande incontro dei giovani italiani in programma per il 1 e 2 settembre 2007 a Loreto. Manchi solo tu!